Ciao a tutti, io sono Cecilia e bentornati sul mio canale! Il rumore che sentite viene prodotto dalla fotocamera e non ho capito perché succeda questo, quindi non so come risolvere questo problema. Se ne sentite troppo proverò qualche rimedio in post-produzione, ma non posso fare miracoli. Facciamo un bel respiro, prima o poi doveva succedere, iniziamo il nostro viaggio alla scoperta dei libri di Licia Droisi. In particolare parliamo di Pandora, primo volume di quattro libri. Questa saga è uscita dal 2014 e il 2018 con Mondadori e in teoria doveva comprendere sei volumi e poi sono stati ridotti a quattro e sono rispettivamente Pandora di cui andremo a parlare oggi, Il risveglio di Samael, L'erede di Gabriel e Il potere di Arishat. È quasi un anno che ho aperto questo canale, prima o poi come vi dicevo doveva succedere e quindi siamo qui a parlare della Droisi, ma vi dirò io mi aspettavo molto peggio. Questo volume diciamo che è andata abbastanza bene, secondo le mie aspettative principali. Ah, tra l'altro ho anche l'ank, ma non si vede perché la fotocamera non mi inquadra tutta. Comunque, eccolo qua. In ogni caso, Licia Droisi penso che la conoscano tutti nel panorama italiano, quindi sarò breve e concisa. È nata a Roma, si è laureata con un dottorato in astronomia, si è sposata e ha avuto una bambina. Nel 2004 ha debuttato con Le Cronache del mondo emerso, che tra l'altro è stato tradotto in più di dieci lingue. Da quel momento in poi, oltre a Le Cronache, ha scritto anche La Trilogia delle Guerre, La Trilogia delle Leggende, La Ragazza Drago, I Regni di Nashira, Pandora appunto, e La Saga del Dominio. Oltre che ad altri romanzi singoli e racconti, quindi diciamo che non è proprio alle prime armi. Io principalmente quando ho letto Le Cronache del mondo emerso, devo ammettere che andavo alle scuole medie e mi era particolarmente piaciuto, tanto che ho voluto portarlo come classica recensione dei libri, quelle che si fanno a scuola. E in un primo momento non avevo capito perché l'insegnante mi guardasse storto, cioè pensavo di aver fatto qualcosa di particolare perché era un fantasy, non per i contenuti pratici del romanzo. Successivamente poi, anche grazie a Gamberi Fantasy, se non lo conoscete andate su quel sito, morite dalle risate. Ho sviluppato un po' di quello che può essere chiamato senso critico e quindi poi ho compreso perché l'insegnante mi guardasse così storto quando gli ho detto che era un bel libro. Da quel momento devo ammettere che ho rivalutato davvero in negativo l'opera, soprattutto per il world building in cui tutto è errato, tutto è confuso e sbagliato. Ogni elemento cozza con l'altro, i personaggi a parte piangere, 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 non concludono niente e sono sempre gli altri che li aiutano e fanno le cose al posto loro. E come dicevo, comunque tutti quei dettagli tipo proporzioni, altezze, misure, eccetera, eccetera, che sono oggettivamente materia di studio anche dell'audrice e sono oggettivamente errati. Detto questo vi ho raccontato questa cosa per farvi capire che prima era molto in negativo e adesso volevo dare una seconda chance, anche perché la saga di Pandora è piuttosto recente e quindi in tutti questi anni volevo vedere se c'erano stati dei cambiamenti. Diciamo che sul world building non ci si poteva sbagliare più di tanto essendo che il romanzo è contemporaneo e quindi nel nostro mondo. Sui personaggi diciamo che così è così. La nostra protagonista si chiama Pandora, per gli amici Pam, ma non amici, quindi non importa. A scuola è un'emarginata e mi chiedo perché se ci vai vestita in questo modo, sarà una coincidenza? In ogni caso con i suoi compagni non va d'accordo e per vedere se loro sono così anche fuori dalla scuola decide di andare alla fest di Halloween che hanno organizzato. Ma ovviamente tutto va storto. Finisce con l'aprire una scatola che apparentemente era impossibile da aprire e rilasciare nel mondo sei demoni, tra cui Samael che si rincarna in un ragazzo che quella stessa sera la investisce con il motorino. La investe. Dimenticate quello che ho detto. La investe col motorino. Da quel momento in poi Sam scopre di avere questo potere terribile ovvero uccidere le persone tramite contatto fisico con le mani e lo scopre nel modo peggiore di tutti. Mentre Pam diventa invisibile. Invisibile agli occhi di tutti tranne che per Sam e poche altre persone. Da qui in poi inizia una lotta contro il tempo per andare a cercare tutti i demoni rimetterli nella scatola e far finta che non sia successo nulla. Come vi ho detto all'inizio pensavo peggio ma ancora non riesco a capacitarmi di come un'autrice così famosa un'autrice che ha scritto così tanto riesca a fare ancora questi errori così banali a sbagliare le cose base soprattutto nel suo corso di studi. Se partiamo già dal lessico qualche giorno fa guardavo un video su Instagram di un ragazzo che ti spiegava come fare i dialoghi e lui diceva le cose normali insomma che per fare un dialogo coerente dovresti mettere al primo posto l'età del personaggio, il ceto sociale e il periodo storico. La Troisi non fa niente di tutto questo a lei non interessa che i protagonisti abbiano 16 anni non interessa che siano nostri contemporanei o che comunque vivano nella nostra epoca e non le interessa che siano persone comunissime oltre questo a questo punto non le interessa neanche il pubblico a cui è rivolto il romanzo che in effetti è molto giovane. Infatti l'autrice userà termini arcaici che l'ultima volta che li ho sentiti è sul romanzo di Dracula di Bram Stoker cioè che non c'entra niente. Ad esempio abbiamo le palme per indicare i palmi delle mani ma chi lo usa? Cioè nel senso... Eh? Oppure una chiostra di zanne cioè dove l'avete mai sentito una chiostra di zanne? Ma anche modi di dire tipo male in arnese ma cose un po' più semplici no? Cioè un giovane che legge questa cosa l'ha mai usato come termine? In ogni caso in ogni zona d'Italia si usano termini differenti per descrivere le cose quindi mi domando da voi si usano questi termini? Oltre questo ho trovato alcuni errori ad esempio mattonelle marrone oppure frasi apparentemente senza senso che comunque sicuramente è un mio problema io non le ho capite ad esempio le apriporti partecipano della natura di questo mondo e di quello spirituale partecipano della natura ma che significa? sono pienamente convinta che io non sono riuscita a capirlo mentre altre persone lo capiscono benissimo me ne rendo conto ma veramente io non ho capito che cosa volesse dire boh in ogni caso ho anche l'idea che ladro gli sia dei giovani è veramente troppo infantile infatti quando Pam tipo nel secondo capitolo va a questa festa i compagnie le fanno i cori di scherno ma oltre questo anche l'eco cioè io capisco che ci possa essere un po' di goliardia ma stiamo parlando di ragazzi che vanno al liceo è surreale che al liceo ti fanno ancora i cori di scherno come se fossi all'asilo e ti fanno l'eco delle parole che dici cioè veramente asilo barra elementari non vai oltre comunque queste sono gocce nell'oceano paragonato a tutto il resto quindi passiamo oltre ovviamente proporzioni tempistiche non siamo migliorati affatto zero allora secondo la Droisi le persone a piedi cioè facendo il conto in 7 km sono stati percorsi in circa 7-8 ore io penso che anche una persona zoppa sinceramente questi 7 km li possa fare in meno di 7 ore cioè ma dai è uno scherzo com'è possibile questo cioè veramente io che non io che non faccio attività fisica che vado a camminare una volta ogni morte di papa comunque sia faccio questi 7 km li faccio in un'ora e mezza massimo ora non vi dico il soggetto perché vi potrei fare spoiler ma comunque vi dico il minimo indispensabile per sapere il contesto quindi vi cito testualmente sono centinaia migliaia una marea ora preparatevi il protagonista ne uccide alcune decine ok alcune decine il resto scappa fuga oddio che paura cioè scusate allora se sono centinaia e poi diventano migliaia e poi diventano una marea non è che se ne uccidi 40 per dire o 50 succede qualcosa è come se su 2000 persone che hai davanti cioè immaginatevi una piazza con 2000 persone ne muoiono 40 secondo me non te ne accorgi cioè secondo me non ci fai proprio caso perché sono talmente tante le altre che non ci vuoi far caso detto questo vado a stringere sempre sulla base del target a cui è rivolto questo romanzo il libro non è così malvagio ma veramente per un lettore attento non è una buona lettura perché si accorge che la maggior parte degli elementi fanno a cazzotti col buon senso e anche con la coerenza perché soprattutto nella parte finale c'è veramente un po' di confusione su Goodreads ho dato solo due stelle e sono stata generosa perché sinceramente ne aspettavo molto di più mi aspettavo una buona crescita e non è quello che ha trovato infatti ad oggi fa ancora gli stessi errori in ogni caso il primo libro che è questo qui l'ho ricevuto tramite scambio il resto li andrò a leggere tramite il servizio MLOL se non lo conoscete vi lascio il link qui in alto per capire che cos'è questo servizio e come ottenerlo se sono riuscita ad incuriosirvi vi lascio in descrizione il link per l'acquisto se lo trovo su Amazon e ora iniziamo con la parte spoiler tra 3, 2, 1 per prima cosa vorrei parlare della pochezza di descrivere scene veramente drammatiche come la perdita di un familiare e qualche pagina dopo che corrisponde a neanche un giorno o due di distanza letteralmente ecco che si ride scherza, sghignazza come se nulla fosse sinceramente a questo punto era meglio non mettere una cosa così tragica e drammatica ma era meglio mettere qualcosa di un po' più banale tipo ho toccato il pesce rosso che per carità è comunque una cosa triste ma non è comunque come la perdita di un familiare breve parentesi triste anche sulle spiegazioni scientifiche di cui potevamo fare assolutamente a meno di Mara e Deugenio anche perché non sei assolutamente non lo so l'ombra del torturatore che puoi mischiare fantasy e fantascienza in modo perfetto quindi ecco potevamo fare a meno insomma questi due scienziati che hanno poco di scienziati portano avanti questa loro scienza che si basa maggiormente sul paranormale ma io non capisco che c'entra che sappiano tutto loro invece dei protagonisti stessi che sono fisicamente più coinvolti cioè veramente anche cose fuori dal mondo escono dalla loro bocca e non si capisce su che base l'hanno scoperto boh vi leggo alcuni passaggi quando questi demoni vengono liberati dal loro confinamento l'universo reagisce è come quando gonfi troppo un palloncino di chewing gum che succede? scoppia buttò lì Sam esatto disse Eugenio entusiasta ma se ispiri l'aria i due lembi della parte rotta possono rincollarsi giusto? più o meno ecco l'universo dovrebbe funzionare allo stesso modo rinchiudere nuovamente le energie liberate dovrebbe sanare la frattura di conseguenza quanto è accaduto tra la liberazione delle energie e il loro confinamento direttamente dovuto ai poteri espressi da queste energie dovrebbe essere annullato non sono sicuro di aver capito ammise Sam sinceramente neanche noi perché è una non si può dire è una stupidaggine tua madre tornerà in vita tradusse Pam e così le persone che ha ucciso nel frattempo che sono state uccise dagli altri angeli allora c'è una speranza disse lui rincuorato Eugenio mise le mani avanti dovrebbe essere così ma non abbiamo mai avuto la possibilità di testare questa teoria i calcoli dicono che dovrebbe andare in questo modo ma non ho mai fatto esperimenti al riguardo le energie in gioco sono troppo elevate per il laboratorio da quattro soldi in cui sono costretto a lavorare cioè ma sinceramente di cosa di cosa stiamo parlando perché quali calcoli quali test come fai a misurare una cosa del genere quando mai ti è capitato di scontrarti con una cosa del genere con dei demoni le fratture del tempo dello spazio ma di che parli? cioè una cosa sensata l'ha detta? secondo me no cioè la scienza che ci insegnano da se non l'asilo dall'elementari è che si basa su pochi principi osservare ipotizzare verificare le ipotesi e vedere se funziona quindi non c'è nient'altro la realtà di fatti è che ne Eugenio ne Mara hanno visto mai niente adesso che si sono verificati gli eventi non erano presenti e quindi non hanno assistito neanche a questi anche se forse ha fatto delle ipotesi come fa a verificarle non è fisicamente possibile verificare una cosa del genere ammettiamolo sono troppo contigliosa sono troppo polemica cioè sinceramente in un libro del genere questa cosa potevamo risparmiarcela principalmente perché non hai la tecnologia adatta a dire queste cose mi spiego se un qualsiasi ufficiale di star trek se ne uscisse con una frase del genere ben venga è come oro colato ci credi sicuro anche perché qualsiasi sensore di cui dispongono è tecnologicamente molto più avanzato rispetto al nostro quindi potrebbero per noi misurare qualsiasi cosa a questo punto ma gli stessi strumenti costruiti ad oggi con la nostra tecnologia ma non la nostra tecnologia nel senso tutta la tecnologia che un ricercatore di qual tipo si può permettere e quindi pari praticamente a niente e quindi non mi spiego come fa a dire queste cose comunque continuando se veramente si chiudono questi 5-6 demoni nella scatola ci si apre un mondo molto più ampio che per carità non è assolutamente il mio campo di ricerca non dovrei dire niente a proposito ma in proposito ma veramente per me è una stupidaggine di dimensioni colossali allora il libro ci dice che molte persone sono morte ok perfetto quindi come fanno a tornare in vita cioè comunque il mondo va avanti non è che fanno il respawn così a caso ok cioè nel senso che fanno tornano come zombie oppure ti ricapitano cioè non lo so ti ritornano in vita così a caso tipo grazia del signore oppure addirittura si crea un altro mondo parallelo in cui ci sono sempre stati cioè e quindi magari quel mondo parallelo si unisce a questo cioè secondo me dire queste cose e non spiegarle è una stupidaggine io capisco che il target del libro è per giovani che magari non si fanno queste domande ma chiunque altro lo legga è impossibile che non si fa queste domande e quindi secondo me poteva semplicemente limitarsi al campo magico e togliere tutta la parte scientifica perché secondo me non è fatta bene perché non ti spiega appieno quello che fisicamente succede cioè tutto un chi lo sa forse è così e poi nel concreto non sai niente cioè addirittura avrebbero potuto dire che quelle energie scatenate e poi rinchiuse avevano così tanta forza da far tornare indietro il tempo avrebbe avuto più senso veramente avrebbe avuto più senso così per me non ci siamo non ci siamo affatti comunque scusate se non guardo la telecamera è che adesso non ci sono abituato lo schermino di fianco e quindi mi viene da guardare lo schermino ma non ci faccio apposta cercherò di migliorare andando avanti siamo nel pieno scontro con il demone di turno e Pam afferrò il primo oggetto che gli capitò sotto mano un pezzo di legno abbandonato a terra siamo in pieno centro di Roma dimmi dove hai trovato un pezzo di legno almeno così grosso da usare come arma abbandonato per terra cioè boh cose senza senso se in un mondo fantasy la tecnologia è quasi tutta basata sul legno è quasi sicuro che lo trovi ovunque ma sei in pieno centro storico non capisco come 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 lo stesso anche di Pam questa cosina qui le cade di mano almeno 27 volte almeno cioè una cosa neanche fosse una savonetta una cosa imbarazzante ma imbarazzante per il lettore che legge questa cosa e dice si ok ma perché non hai pensato a qualcosa di più verosimile qualcosa di più ingegnoso boh cadde di schiena al suolo batte la testa e l'hank le scivolò di mano il contraccolpo sul braccio la spinse indietro e le fece di nuovo sfuggire di mano l'arma che era sempre l'hank cioè dopo la seconda volta gli altri personaggi capiscono che non ce la può fare da sola e cercano di aiutarla ma falliscono a loro volta colpì ma la notte in pieno petto mandandolo gambe all'aria l'hank gli sfuggì di mano finendo qualche metro più in là e siamo a tre si gettò verso l'hank le dita riuscirono a sfiorarlo e sollevare la catenina poi qualcosa la colpì con violenza tra le scapole immobilizzando immobilizzando non lo so dire scusate immobilizzandola al suolo l'hank le sfuggì di mano ancora una volta cioè veramente è una truffa e cadde esattamente ai piedi di angelica che era sgattogliolata via appena quella creatura mostruosa si era materializzata afferrò la catenina e la lanciò a pam mashbeer mollò la presa e provò ad afferrare al volo il ciondolo ma la sua mano non aveva più alcuna consistenza non si sa per quale motivo non aveva più nessuna consistenza ma ai fini di trama va bene così le dita di pam si strinsero sul metallo lei use gli occhi e inizia subito a tracciare il pentacolo e intanto le sue labbra ripetevano rapidamente la formula cioè no una cosa un po' più ingegnosa niente bisogna fare le saponette cioè veramente io non non sono riuscita a legare per niente con questo libro per niente lo stesso demone ha i poteri più sbilanciati del mondo perché è fortissimo e poi diventa una cacca fumante perché sempre per motivi di trama allora arco e frecce quindi può ucciderti da distanza comanda tutti gli animali del mondo e non capisco perché non abbiamo visto i cinghiali però va bene lancia i fulmini cioè che vuoi è il ranger migliore del mondo nel senso fa tutto con gli attacchi a distanza perché non ha vinto lui tipo oh no il nemico si sta avvicinando presto scagliamoli addosso tutte le frecce che ho morto finito oh no il nemico si sta avvicinando presto scagliamoli addosso tutti gli animali che controllo e quindi uccidiamolo non lo so a morsi quello che volete artigliate quello che volete niente da fare oh no il nemico si sta avvicinando presto fulmini 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 no per dire cioè perché dare questi poteri super potenti se non hai nessuna intenzione di farli usare è veramente insensato andiamo a concludere ciliegina sulla torta Pam e Sam sconfiggono il demone lo rinchiudono nella scatola arriva la ninja cioè io qui veramente sono morta dalle risate incontrollabili e che succede questa ninja gli dice dacci la scatola perché tu sei inutile noi siamo fortissimi e siamo meglio di te non mi piace attaccare la gente in difesa disse Lia ti sto dando la possibilità di consegnarmi lo scrigno di tua spontanea volontà Pam viantò i piedi a terra sai che non posso farlo lo scrigno mi serve per catturare gli altri angeli della morte non lo capisci? eh non lo capisci? devi farlo solo con noi lo scrigno sarà al sicuro da secoli siamo sulle tracce degli angeli della morte e attendiamo il loro ritorno sappiamo come occuparcene meglio di chiunque altro ma scusa una cosa fino adesso dove sei stata? cioè tu e il tuo gruppo dei quattro scemi non vi siete accorti che a Roma tutti gli animali sono ritornati come zombie e sfilano per le vie della città non vi siete accorti che le persone sono scomparse nelle loro case? cioè ma tipo 2 più 2 e se effettivamente siete così forti e potenti perché non siete andati a distruggere il demonio al posto loro? misteri insondabili cioè tipo a un certo punto io leggendo sta cosa sono rimasta come l'attore di Valk Fiction che fa così no? cioè no? ma io queste cose veramente non le concepisco comunque ho veramente tantissimo altro da dire ma questo video finisce qui anche perché la batteria mi sta abbandonando non sono più abituata a fare riprese brevi perché con il telefono potevo andare a oltre mentre qui ho la restrizione e quindi ci vediamo nel prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale anche perché i miei video vengono visti dall'1% degli iscritti e tutto il resto non sono iscritti quindi se mi volete supportare iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao ma scusate i cinghiali cioè io mi sento presa in giro perché non ci stanno i cinghiali siamo a parlare di Roma quante volte l'abbiamo sentito su questi maledetti delle giornali che ci stanno i cinghiali dove sono in questo libro i cinghiali dove sono e questo è il guido accusadorio grazie a tutti